Reggio Emilia è ad oggi ancora la città più elettrica d'Europa, cioè la città dove circolano più veicoli elettrici nelle strade tutti i giorni, che sono quasi tutti veicoli di lavoro. Questo deriva da un impegno che ormai è partito nel lontano 2001 e che ha visto pian pianino affermarsi a Reggio Emilia il veicolo elettrico, cosa di cui noi andiamo molto orgogliosi e che ci permette di poter affrontare il prossimo sviluppo che sembra importante perché arriveranno tanti altri veicoli nuovi con la fiducia di dare a Reggio Emilia effettivamente una mobilità più sostenibile.